Ciao a tutti amici di seblogappsblogspot.com andiamo a vedere oggi un altro elemento più precisamente quello che si trova in other components ed è il notifier questo notifier è un componente al tempo stesso semplice ma anche molto potente che ci può tornare utile in molteplici occasioni è un componente non visibile e in genere può far apparire sul schermo della nostra applicazione degli avvertimenti o delle informazioni per l'interfaccia con l'utente abbiamo vari metodi e vari eventi che andremo a vedere in questo semplice esempio che andiamo a creare un nuovo progetto chiamiamolo Tutorial Notifier quindi il titolo anche qua Tutorial Notifier ed iniziamo ad inserire i nostri componenti partiamo da due Horizontal Arrangements il primo sarà una textbox dove vogliamo inserire un numero fondamentalmente quindi lo chiamiamo tbData quindi textboxData e qua scriviamo inserisci un numero quindi usiamo anche la proprietà NumbersOnly che farà apparire la tastiera Android solo con i numeri poi invece nella seconda metteremo tre pulsanti poi vi spiego a cosa servono anche se la cosa è molto semplice qua mettiamoli in fill parent per non farli uscire dallo schermo allora i loro nomi saranno radice per calcolare la radice quadrata poi avremo quadrato per calcolare appunto il quadrato di quel numero e cubo per calcolare il cubo del numero che abbiamo inserito qua quindi li chiamiamo button bn radice anzi chiamiamo button calcola radice button calcola quadrato e indovinate un po' l'ultimo sarà button calcola cubo poi un altro horizontal arrangement dove andiamo a inserire due label saranno la prima sarà possiamo anche lasciare la chiamata label cambiamo solo il test scriviamo risultato due punti e la seconda la chiamiamo label risultato e come valore iniziale diamo un trattino o zero come volete voi ora cosa andiamo a fare poi il resto lo vediamo dopo di nuovo sul design editor non abbiamo finito passiamo al blocks editor allora iniziamo dalla radice io voglio che quando l'utente mi calcola mi preme il pulsante per il calcolo della radice cosa faccia? voglio che la label risultato text sia uguale alla radice quadrata quindi è square root in inglese del valore che abbiamo inserito in tbdata text ok? molto semplice se vado a provare la mia applicazione io uso l'emulatore come vedete mi mostra solo i numeri inserisco 9 risultato 3 quindi voi direte a questo punto è tutto molto semplice è molto facile ma cosa capita spesso? che l'utente si dimentica di inserire un numero e mi preme radice a quel punto cosa succede? viene questo messaggio di errore che praticamente fa diciamo crescere l'applicazione allora col notifier noi possiamo evitare questo e avere un'interfaccia utente un po' più elegante quindi questo pezzo lo mettiamo fuori per il momento ed aggiungiamo un controllo if else dove noi andremo a fare un test andremo a vedere c'è la domanda se il testo è vuoto quindi il testo vuoto sarà il nostro tbdata text quindi cosa vogliamo fare? se per caso è vuoto vogliamo avvertire l'utente che deve inserire un qualche numero quindi andiamo ad inserire nell'hader staff l'elemento notifier che come vedete non ha proprietà ed è un componente invisibile e allora nel momento in cui l'utente preme quando non ha inserito nessun numero posso chiamare notifier show alert metterò un testo in cui andrò a dire per esempio devi inserire un numero se invece non è vuoto vuol dire che c'è qualcosa che questa qualcosa è un numero allora calcolo la radice quadrata andiamo a vedere qua un trucchetto invece di data and application se fate back si torna all'applicazione senza dover poi ricollegare tutto quanto quindi è vuoto premo radice e vedete che il notifier mi fa apparire questa sovraimpressione dove dice devi inserire un numero se invece io il numero lo inserisco e premo radice mi calcola il risultato correttamente questo è un primo modo di utilizzare il notifier adesso col calcolo del cubo un po' abbiamo capito ma vogliamo fare una cosa ancora un po' più bellina allora calcola cubo diamo la stessa if else la domanda sarà la stessa perché vogliamo sempre verificare se appunto è vuoto o non vuoto ecco qua il nostro testo però in questo caso nel caso sia vuoto cosa vogliamo fare invece di show alert andiamo a vedere che notifier ha un altro altri due o tre metodi allora c'è show choose show message dialogue in cosa differisce questo questo differisce col fatto che non sarà più un solo messaggio di testo ma avremo proprio una finestra con un titolo un messaggio e poi un pulsante dove possiamo dare conferma se vogliamo andare avanti o meno con le nostre operazioni quindi come messaggio diamo una cosa del genere premi ok e poi inserisci il numero il titolo di questa finestra sarà manca il valore e il testo che dobbiamo prendere che dobbiamo cliccare abbiamo detto che è ok quindi qua scriviamo ok in realtà non è che importi molto ovviamente il risultato non sarà più la radice quadrata in caso che ci sia un numero ma vogliamo che sia il quadrato quindi elevato alla potenza dove la base sarà sempre quello che abbiamo inserito e l'esponente sarà il numero 2 ok quindi andiamo a vedere se funziona ripassiamo sull'emulatore allora calcoliamo il quadrato premo 9 ho sbagliato qualcosa andiamo a vedere sì perché l'ho messo su quello del cubo quindi se calcolo il cubo ecco che abbiamo fatto giusto allora per rimediare cosa facciamo spostiamo tutto questo blocco questo ce lo teniamo buono per dopo e mettiamo guatto calcola quadrato clic ed andiamo a inserire tutto questo blocco andiamo a vedere se funziona allora cambiamo numero mettiamo 2 andiamo a vedere il quadrato è 4 se invece non inseriamo nulla quando io premo quadrato mi dice manca il valore premi ok e poi inserisci il numero quindi premo ok e mi ritorna il cursore qui dove io vado ad inserire il numero quindi diciamo questo è ancora diverso questo è con show alert e questo è show dialog abbiamo una terza maniera che è ancora più diciamo evoluta andiamo a vederla subito allora di nuovo il primo controllo sarà sempre lo stesso quindi posso copiare e incollare la verifica se il testo è vuoto o meno però questa volta invece di usare il show message dialog nel notifer abbiamo il terzo metodo che è un show choose dialog ok il choose dialog ha due opzioni praticamente e in base all'opzione scelta dall'utente possiamo fare una cosa o farne un'altra quindi il messaggio che vogliamo far visualizzare all'utente questa volta sarà vuoi inserirlo ora punto di domanda che cosa possiamo metterlo nel titolo della finestra che appare quindi il titolo sarà devi inserire un numero e i due pulsanti possiamo scegliere anche noi cosa devono contenere comunque diciamo che in questo caso sarà sì o no ok ora anche qua in caso che ci sia un numero vogliamo calcolare il cubo quindi l'espressione sarà uguale a questa solo che invece di elevarlo alla seconda lo eleveremo alla terza ora show choose dialogue mi ritorna un evento dopo che l'utente ha selezionato una delle due opzioni andiamo a vedere col cubo devi inserire un numero vuoi inserirlo ora sì o no quindi ci sono due eventi cioè c'è un evento che è dopo che l'utente ha fatto la sua scelta questo evento lo troviamo sempre in notifier e sarà after choosing dove in pratica la choice ovvero la scelta sarà questa ovvero mi ritornerà sì o no quindi in questo caso il controllo con l'if else lo devo fare sulla choice ovvero se la choice è allora mettiamo qua lo trovo in my definition se il valore di choice è uguale quindi al testo il testo deve essere scritto esattamente come è stato scritto qua se il valore è questo allora complichiamo ancora un po' di più le cose ed andiamo a vedere un altro modo di usare il dialog il notifier che è show text dialog quindi il messaggio sarà inserisci il numero che vuoi utilizzare questo è il messaggio e il titolo possiamo impostarlo come inserimento valore ok se invece ovviamente l'utente mi schiaccia no sarà l'altra condizione dell'if else sono solo due condizioni o sì o no quindi tanto in là non si può andare possiamo mostrare un alert dove diciamo all'utente una cosa del genere nessun calcolo effettuato manca il valore ok allora se risponde sì andiamo qui dentro show text dialog show text dialog cosa fa praticamente mi chiede adesso andiamo a vederlo che facciamo prima quindi premo cubo mi dice deve inserire un numero vuoi inserirlo ora se premo no mi da l'avvertimento nessun calcolo effettuato manca il valore se invece io dico sì mi verrà un'altra text box inserimento valore inserisci il numero che vuoi utilizzare l'unico tra virgolette problema è che come vedete non parte in automatico la tastiera quella dei numeri ma parte quella classica dovremo poi switchare noi sulla tastiera dei numeri ok ora manca il resto del codice che andiamo subito a vedere qual è il metodo che viene effettuato dopo show text dialog sempre per notifer ci sarà after text input quindi ricordatevi che un notifer show choose dialog avrà l'evento after choosing un show text dialog avrà l'evento after text input quello che ha inserito l'utente va in response ora anche qui spero non sia troppo complicata la cosa facciamo sempre un if else però vogliamo controllare che l'utente abbia inserito qualcosa prima di tutto e che questo qualcosa sia un numero quindi andiamo ad usare la funzione di or logico ovvero una delle due condizioni se una delle due condizioni è vera il test è vero quindi la prima sarà di nuovo se la testuale is text empty questa volta però sarà response che è in pratica il valore che mi ha inserito l'utente nella casella di testo che ho mostrato con show text dialog l'altra sarà se se per caso è un testo quindi se questo non è un numero se response non è un numero voglio mostrare un messaggio di errore non voglio procedere col calcolo altrimenti poi app inventors incazza e mi mostra un messaggio di errore quindi se succede questo ovvero se l'utente mi inserisce del testo oppure non mi inserisce niente di nuovo mostro un alert dove questo testo per esempio sarà numero non inserito correttamente qua vi ricordo che se fate slash n andate a capo slash n riprova ok altrimenti cosa possiamo fare finalmente il nostro numero è stato inserito quindi mettiamo che il testo diventa uguale a response ovvero il numero che ci aveva inserito l'utente prima e il risultato finalmente può essere l'elevazione alla terza potenza di quello che è stato inserito quindi else do risultato text ed andiamo con le funzioni matematiche a calcolare l'elevamento a potenza dove la base sarà ancora una volta response e l'esponente sarà il numero 3 possiamo scrivere 3 eccoci qua se scriviamo number 3 o text 3 fortunatamente non cambia niente allora proviamo schiaccio cubo non ho inserito niente magari ho sbagliato devi inserire un numero vuoi inserirlo ora? sì premo sì mi apre inserisci il numero che vuoi utilizzare allora proviamo prima nel caso negativo in cui io inserisco una lettera invece che un numero mi dovrebbe dire a questo punto numero non inserito correttamente riprova quindi rifaccio la procedura cubo vuoi inserirlo ora? sì mi arriva questo text box inserisci il numero questa volta inseriamo veramente un numero inseriamo il numero 10 scusate la lentezza dell'emulatore ok il risultato è 1000 questi pulsanti ancora funzionano la radice il quadrato e il cubo quindi come vedete siamo riusciti a fare diciamo un controllo degli errori dove se uno non mi inserisce nulla in una casella ho tre opzioni o mostro solo un messaggio di avvertimento o mostro un messaggio di avvertimento dove bisogna premere un pulsante per andare avanti oppure addirittura nel caso più elaborato dove do la possibilità in modo diciamo quasi guidato di inserire questo dato per la nostra applicazione ora vedete che se inserisco vuoto comunque mi da questo tipo di errore quindi abbiamo coperto un attimino i tre diciamo i tre metodi del notifer choose dialog message dialog e text dialog andate a rivedervelo un attimino con calma e capirete ancora meglio cosa intendo con tutto questo ora prima di finire vediamo due cosine ancora veloci per esempio a me piace nelle mie applicazioni se ho un componente activity starter dove voglio far partire una pagina internet quindi action è android intent action view e data uri mettiamo la pagina internet che voglio visualizzare quindi tanto per cambiare la mia pagina cosa voglio fare voglio fare che se manca ovviamente il pulsante che va a richiamare questo activity starter quindi di nuovo mettiamo un altro risonte all'arrangement e mettiamo un pulsante che chiamiamo lancia browser lancia browser e qua lo chiamiamo un attimo ok button start browser non so più come si scrive torniamo al blocks editor quando mi premo button start browser allora prima di far partire l'activity starter col notifier voglio fare vedere un messaggio che dice questo lo faccio perché purtroppo il tasto back di app inventor del telefono non viene mappato come sulle altre applicazioni ma si esce sempre dall'applicazione quindi andrò a scrivere per tornare all'app premi back nel telefono ok e poi ovviamente devo far partire l'activity starter quindi chiamo activity starter start activity quindi a questo punto se premo lancia browser dovrebbe funzionare spero mi verrà per tornare all'app premi back nel telefono e mi parte vedete il browser anche qua lentissimo comunque con l'emulatore mi parte il browser sulla pagina internet che gli ho indicato visto che appunto ho detto per tornare all'app premi back nel telefono io premo back nel mio telefono questa qua è un'altra activity e quindi torno alla mia applicazione di app inventor un'ultima cosa che voglio aggiungere un altro pulsante magari in qualche applicazione ce lo potete mettere lo chiamiamo pulsante exit e lo chiamiamo esci dall'app ok quindi voglio un pulsante che ci faccia uscire dall'applicazione useremo ancora una volta il notifier quindi quando il pulsante exit viene cliccato io voglio far vedere un dialog quindi il notifier può essere sempre lo stesso notifier adesso vediamo solo una piccola particolarità quindi il testo il messaggio sarà per esempio vuoi davvero uscire punto di domanda da questa fantastica app che come avete fatto a non averla ancora installata e tenerla per tutta la vita chiudi app sarà il titolo anche qua se io mettessi come testo si e no qual è il problema il problema è che quando rispondo si ho già un blocco che mi gestisce l'after choosing e quindi mi eseguirebbe questa parte di codice quindi o faccio un nuovo notifier così ho un altro nome del notifier 2 allora posso di nuovo fare si e no oppure altrimenti le scelte le devo chiamare in due modi diversi quindi in questo esempio non ancora oppure certo allora notifier after choosing quindi dopo che l'utente mi fa la scelta la scelta questa volta diventa choice one questo lo mette in automatico un controllo di nuovo if e vado a vedere se choice one è uguale al testo che ho inserito prima quindi al testo certo quindi se premo così certo vado a vedere in controllo trovate non so se la conoscete comunque in controllo c'è close application che in pratica mi fa chiudere l'applicazione torniamo a vedere nel nostro emulatore se premo esci dall'app e dice vuoi davvero uscire se dico non ancora non fa niente mi chiude semplicemente il dialog e non succede nulla se invece gli do certo mi chiude l'app e torno al mio desktop di android bene spero con questo tutorial di avervi un po' illuminato dato qualche spunto per l'utilizzo del componente notifier che come avete visto è molto interessante molto utile viene usato in svariate occasioni come sempre troverete sul mio blog il codice sorgente come sempre mi fa piacere se venite a iscrivervi sul mio blog se fate un più uno ai post che faccio se date i pollici in su se vi piace il video che ho fatto o i pollici in giù se vi ha fatto schifo ovviamente e mi sembra di non avere nient'altro da dirvi ci sentiamo prossimamente ciao